Editoriale, un'opposizione incapace di far sentire la sua voce e complice dei disastri di Siracusa. Quando Francesco Italia prese il potere in città, non sappiamo come e il perché, ce lo dovrebbe spiegare sotto tortura l'ex suo amico Giancarlo Garozzo, che lo ha voluto fortemente al Vermexio. Garozzo oggi è leader di fuori sistema per Siracusa, nel tentare di spiegare la sua scelta di apparentarsi con Ferdinando Messina, e ha ironizzato tirando in ballo il candidato al sindaco nel ballottaggio dell'11 e del 12 giugno, Francesco Italia, e dichiarando che la sua scelta di appoggiare il centro-destra di Ferdinando Messina sarebbe stato un capolavoro politico di Francesco Italia. Accordi trasversali, pensando che ci trovassimo di fronte alla sicura di avere all'orizzonte il peggiore governo possibile. Tutt'ora resta inviolata questa convinzione, ma avevamo sottovalutato il fenomeno che consiste nella simultaneità di ben due piaghe, di una pessima giunta accompagnata da una pessima opposizione. Spesso è una concatenazione di eventi, se le attuali forze d'opposizione non si fossero dimostrate così deboli e politicamente arrendevoli, non avremmo avuto questa giunta, d'altronde il sonno della ragione genera i mostri e quello del centro-sinistra e del centro-destra, sempre più accomunabile a uno Stato comatoso, ha dato il via libera alle creature da incubo che evidentemente meritiamo di avere come rappresentanti. Qualcuno asserisce che il titolare di Palazzo Vermexio abbia flertato preventivamente e segretamente nell'immaginazione collettiva con il leader di M.P.A. Raffaello Lombardo per concludere la compagine di maggioranza facendo subire a denti stretti l'alleanza a un tale Giuseppe Carta che altro ne è una figurina insignificante nello scacchiere fantopolitico seracusano. Un melillese che ama tanto il suo mini carnevale da impersonificarlo. Sarà, ma lui è tutto il contrario di tutto, per un uomo ripudiato dal PD nelle elezioni regionali. Prendere o lasciare, avrebbe preferito Lombardo, ultima spiaggia per un uomo piccolo così. Sì, forse l'oscenità di una Giunta si misura anche in base all'inadeguatezza o all'assenza del suo forzo di contrasto, ma mai nella nostra storia, nonostante un ricco museo degli orrori al Vermexio di sindaci inconcludenti, era capitato di avere nella stessa legislatura il peggio spalmato tra Giunta e opposizione. E' il declino della classe politica tutta, forse della società seracusana, di certo della democrazia rappresentativa intesa come delega ai migliori. L'aspetto amaro e ironico di questo scenario è che hanno ragione tutti, l'opposizione a disprozzare, la Giunta e l'esecutiva in carica a riservare la stessa considerazione agli avversari. Proviamo un attimo a seguire una delle derive dei nostri tempi, la logica del menopeggismo vissuta nelle ultime amministrative. Nonostante il sindaco Italia abbia fatto più danni della grandine, specialmente nell'elettorato del centro-destra e centro-sinistra, per non far vincere i mostri veri, accettando torto collo i mostricciattoli come il sindaco Italia, bisogna riconoscere che c'è un fondo di verità. La Giunta in carica è effettivamente peggiore dell'opposizione a livello politico, etico, ideologico e rappresenta un male maggiore. Questo non assolve il meno peggio, che su questa nomea hanno basato la loro intera esperienza politica, fino a raggiungere la totale insignificanza e passività. Inoltre, nel ruolo d'opposizione, negli anni scorsi, nel 2018, è stata nettamente più incisiva. Forse dunque è necessario capire in modo pratico perché questo sia il peggio dei governi e contemporaneamente perché questa sia la più inconsistente delle opposizioni, guardando anche l'esperienza disastrosa di avere votato la sfiducia del Consiglio Comunale l'8 novembre 2019, la maggioranza di centrodestra boccia il rendiconto del 2018 e in maniera inattesa si va verso lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tutto è accaduto nella seduta all'Urban Center, dove erano presenti 17 consiglieri comunali. Il numero minimo per rendere valida la seduta è passare a trattare lo spiccoloso argomento relativo all'approvazione del bilancio consuntivo. Il numero legale era assicurato. In 5 votano sì, 11 votano no, la Presidente si estiene, il bilancio consuntivo 2018 fu bocciato. Al momento della votazione hanno votato no Federica Barbagallo, Mauro Basile, Sergio Bonafede, Giovanni Boscarino, Francesco Burgia, Alessandro Di Mauro, Chiara Figara, Ezechia, Paolo Reale, Silvia Russonello, Roberto Trigilio e Concetta Vinci. Hanno votato sì Andrea Buccheri, Simona Cascio, Carlo Gradenigo, Carmela Lamesa, Simone Ricupero. Hanno abbandonato l'Aula, il gruppo dei Verdi, Amo Siracusa e i consiglieri Salvo Castagnino, Chiara Catera, Francesco Zappalà, Giuseppe Impallomeni. La nebbia malefica di Siracusa? Non è facile dare una risposta. Occorre analizzare tutto, cose, fatti e persone, connubi e malaffari. La nebbia della criminalità dei colletti bianchi nel territorio siracusano è silente. Qualcuno asserisce che è abbastanza organizzata ed estesa in lungo e in largo con il connubio tra le anime del potere. Nel gattopardo di Tomasi dell'Ampiedusa c'è ancora una verità italiana, forse tutto siracusano. Tutto cambia perché nulla cambi. Eppure Siracusa hanno operato uomini di levatura superiore. Nel recente trascorso sono passati come meteore. Hanno lasciato tuttavia la loro evidente traccia di intelligenza con nome e cognome. Da oltre tre lustri il popolo guerriero di Siracusa vive male, non trova più il suo condottiero. Si sono susseguiti sindaci mediocre, mediamente scarsi, che hanno portato la città nella nebbia dell'inutilità. Ma come questo sindaco nessuno. Per me ce lo sanno tutti. C'è poca programmazione. L'entusiasmo si è smarrito. Anche le formiche si sono trasferite altrove nel vecchio museo per l'Ignavia che regna pazzo del Senato. Che parola nobile pensare che qualche consigliere sprovveduto nel recente passato propose in consiglio di cambiare la denominazione da consigliere a senatore in memoria della storia del Palazzo del Senato. Che giocherelloni pericolosi questi politici siracusani degni solo di atti sporchi come la vicenda firmopoli per certi versi con prescrizione. Un'epoca di uomini intrallassatori a qualunque latitudine, avvocati, magistrati, porta borsa e gente comune per il solo fine. Quella del quibus rebus mensile e della poltrona mentre la città affonda. Fino adesso l'uomo che ha avuto più potere in mano da oltre 13 anni è l'attuale sindaco protempore, Francesco Italia. Incapace come è che vive solo di effimero e come gli istruzzi con la testa sotto la sabbia per non vedere volutamente che manca all'appello l'asset. Di servizi, asilo nido, carenti, dalla gara, igiene urbana insoddisfacente, risultati sotto gli occhi di tutti. Servizio idrico di proroga in proroga con la rete con la brodo. Le ferrovie hanno isolato Siracusa, servizio di trasporti inesistenti, collegamento con Fondera Nostra mai esistito. Poi si parla di turismo fai da te, inesistenti, piano commerciale, progetti di sviluppo Zessin, il piano urban della mobilità, PPO e PRG scaduti, il porto di Siracusa incompleto, l'area artigianale inesistente, la spada di Damocle sul nuovo ospedale con il disinteresse della politica siracusana. I servizi alla collettività, le periferie come detto sempre più isolate, le strade con la brodo e il libro bianco sul turismo, l'industria e l'agroalimentare. La protezione civile merita un capitolo a parte. Per non dimenticare della rigenerazione urbana del lancio Siracusa, per il quale il compianto ingegnere Massimo Rili aveva rilanciato il problema a stazione Waterfront. Infine, dopo la presentazione del progetto G124 riguardante il centro abitato periferico della Mazzarrona, la sua rigenerazione, il de profundis della città, ai posti di l'ardua sentenza, sempre se ci si arriverà a vivi, anche perché è un'opposizione incapace di far sentire la sua voce e complice dei disastri della città. Il tempo della soluzione finisce quando c'è in ballo il futuro di Siracusa.